In questa puntata, l'8 marzo La festa della donna Ucraina, la Toscana, è pronta ad accogliere Cannabis terapeutica RSA, maggiore governance pubblica Alvia, i campionati di cucina italiana Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo Ha aperto al Teatro della Compagnia di Firenze L'evento 8 donne toscane per l'8 marzo Le donne toscane celebrate davanti a numerosi studenti della Toscana Abbiamo voluto dedicare questa giornata dell'8 marzo Alle donne ucraine che stanno resistendo Ma anche alle donne russe che combattono e vengono arrestate per la pace Lo abbiamo voluto fare per anche dare un messaggio Un messaggio di speranza e di futuro Premiando 8 donne che sono state in prima linea nelle battaglie Penso per la tenuta dei posti di lavoro Ma anche per far in modo che la nostra terra diventi sempre più terra di scienza Terra di opportunità, terra di futuro Vogliamo mandare un messaggio forte Che questa non è straordinarietà Dovrebbe diventare la normalità Ed è questo il lavoro che noi come istituzioni vogliamo fare Per cercare ogni giorno di dare più speranza E un futuro migliore alle tante ragazze che vivono la nostra terra E' incivile pensare che ancora oggi una donna su due debba scegliere tra il lavoro e la famiglia E credo che dobbiamo costruire le condizioni perché questo non avvenga E perché quell'immagine che ci arriva dall'Europa Della Presidente Mezzola Della Presidente della Banca Centrale Europea E della von der Leyen Diventino una normalità e non un racconto di qualcosa di straordinario Penso soprattutto alla pace E quindi al desiderio di tregua E il mio pensiero è proprio per quelle donne ucraine che più di ogni altra In questo momento hanno l'anelito verso la pace Verso l'interruzione dei bombardamenti e delle azioni belliche E sono un po' il simbolo del mondo che auspichiamo e che vogliamo Il nostro contributo è quello di raccontare attraverso la ricerca fatta con IRPET Qual è la situazione lavorativa delle donne della Toscana E provare insieme ai tanti ragazzi e tante ragazze che ci sono qui questa mattina Di invertire la rotta e fare in modo che ci siano più diritti per tutte le donne Guerra in Ucraina La Toscana è pronta ad accogliere un front office alla Mercafira Firenze Noi abbiamo una capacità in questo momento di orientamento Per tutti i profughi che arrivano Sia verso il collegamento parentale o amicale Il ricongiungimento con persone che sono qui E che sta portando ad avere oggi molti ucraini che ci sono Ma vengono sostanzialmente ad essere alloggiati e seguiti Attraverso i loro rapporti personali Contemporaneamente siamo pronti con l'albergo di accoglienza Che può ospitare nel momento in cui arrivano i pullman Abbiamo attrezzato la Mercafira per poter svolgere la funzione di front office a Firenze E probabilmente a Livorno per avere due centri di accoglienza Una sulla costa e una nel centro della Toscana Utilizzeremo gli spazi che stanno sotto il sottotribuna del Palasport Così come erano serviti per il Covid Siamo in strettissimo collegamento con i prefetti Come ieri è arrivato un bus di circa 50 ucraini a Livorno Che sono stati prima seguiti direttamente dalla nostra ASL E poi collocati nel modo adeguato Siamo pronti a farlo in ogni momento e per ogni emenienza Cannabis terapeutica, personale sanitario Sì alla legge per la formazione professionale Approvate all'unanimità con 39 voti favorevoli La proposta di legge illustrata da Enrico Sostegni E la mozione con 34 sì Con primo firmatario Jacopo Melio Il dolore è una spia che quando si accende Ti dà un segnale se si può sopperire al dolore Lo si può utilizzare per fini terapeutici La cannabis è importante farlo Serve cultura, serve formazione Serve che il personale ne abbia consapevolezza Non soltanto nell'accezione cosiddetto del fine vita Ma anche nell'accezione dell'utilizzo durante le patologie All'interno, prima nelle fasi appunto terapeutiche Una volta individuata una diagnosi che viene accertata C'è un tema di approvvigionamento importante Per questo abbiamo approvato una mozione Che richiama la Giunta a valutare con attenzione Tutte le strade che possono permettere di aumentarne La produzione in Toscana Perché sappiamo che dobbiamo comprarla dall'estero E anche questo spesso non basta E quindi una politica specifica per aumentarne la produzione in loco L'unica struttura abilitata alla produzione di cannabis medica in Italia È l'istituto farmaceutico militare fiorentino Da questo punto di vista penso che la Regione Toscana Non fosse altra per questo motivo Deve essere a vanguardia E mettersi appunto come Regione pilota Verso una battaglia che è prima di tutto Una battaglia culturale Che poi appunto è una battaglia di civiltà Nei confronti di tanti pazienti Che possono utilizzare quel tipo di appunto medicinale Avendo degli effetti diretti, importanti e tangibili Bisogna abbandonare una volta per tutte Quelle manipolazioni, quelle strumentazioni Che vengono fatte ogni volta che si parla di cannabis L'utilizzo terapeutico della cannabis È una delle soluzioni per alcune persone Forse l'unica per riuscire ad alleviare dolore O comunque sia lenire problemi di natura sanitaria Che essi hanno Quindi formare il personale A un utilizzo attento E soprattutto alternativo Alle normali principi farmacologici È sicuramente da promuoversi Oggi abbiamo sostanzialmente dibattuto In termini abbastanza precisi Cioè la cannabis per scopi terapeutici Scopi terapeutici è una parte Che molto spesso adesso non viene utilizzata Per una certa titubanza Per una certa sorta di mancanza di cultura Di cultura medica riguardo a questo presidio Invece purtroppo ce n'è bisogno In quanto ovviamente la cannabis può essere utilizzata In quelle forme di SLA In quelle forme di cure palliative Che molto spesso aiutano persone Che soffrono veramente molto Il possibile regionale ha risposto In maniera estremamente positiva Votando all'unanimità Questa proposta di legge Che andrà a rincerire All'interno nel percorso di formazione Continua offerto dalla regione Ai medici Quindi rimase un percorso di preparazione Sui medicinali cannabinoidi E quindi si va a combattere Quelle remore culturali Che al colonio purtroppo Inferivano la somministrazione Di quello che è un vero e proprio Farmaco salvavita A migliaia di sultanine e di sultanini Che potranno così Trave un enorme beneficio Da questo principio attivo Sanità per le RSA Maggiore governance pubblica E più controlli L'Aula del Consiglio regionale Ha approvato l'atto Che impegna la Giunta Sul tema delle residenze sanitarie assistenziali Il Consiglio regionale Ha approvato a maggioranza La risoluzione che ho proposto Che riguarda la governance Delle RSA Cioè come e dove Devono nascere le RSA Nella nostra regione Con quell'atto Noi diciamo E impegniamo sia la Giunta Che il Consiglio A strutturare degli strumenti Che permettano di guidare Ovviamente non vincolare più di tanto Ma almeno guidare La nascita Delle strutture residenziali Sul territorio regionale E poi chiediamo Alla Giunta In particolar modo Una applicazione Rigida forse troppo Ma insomma Attenta Dei requisiti previsti Dalla normativa E dai regolamenti Riguardante L'autorizzazione E l'accreditamento Delle RSA In particolar modo I requisiti dimensionali Sappiamo che in Toscana Un RSA Non può avere più di 80 ospiti Divisi in due moduli Da 40 Questo è un requisito Che vale per tutte le RSA Chiediamo che anche Quelle nuove Ovviamente Sia certi Che non vengano adottate Tecniche elusive Di questo criterio Che è un criterio Che la Toscana Ha dagli anni 80 E che incide Sulla qualità Del servizio Per i nostri cittadini Che sono ospiti Delle RSA Il Partito Democratico Ci chiede Di votare Un atto Per difendere Il sistema Delle RSA Toscane Da eventuali Aggressioni Da parte Di Società Multinazionali Società Grandi Potentati Sanitari Che potrebbero In qualche maniera Minacciare La tenuta Del nostro sistema Bene Tutto vero Abbiamo letto Nei giorni scorsi Sui giornali Di questa ipotesi Però ecco Il sistema Delle RSA Toscano Non si difende Con una mozione In aula Il Partito Democratico Da una parte Ci propone Un atto Che chiede Di difendere Il sistema Delle RSA Toscane E poi Il governatore Gianni Il 14 di novembre Va a inaugurare A Cecina La prima Vera Grande Maxi Struttura Proprio frutto Di questi tentativi Stranieri Di infiltrarsi Nel sistema Toscano Della gestione Della RSA Quindi Qualcosa Che cozza In realtà Il sistema Della RSA Toscano Si difende In altre maniere Si difende Magari Rivedendo La quota Sanitaria Che da anni Non viene rivista Che oggi È frutto Di un'altra Epoca storica Di una situazione Pre-Covid In cui Probabilmente La gestione Di queste strutture Era completamente Differente Da oggi E che oggi Avrebbe bisogno Di una revisione A rialzo Importante E allora Noi abbiamo chiesto Al Partito Democratico Se davvero Erano intenzionati A rivedere Il sistema Della RSA Toscana Di difendere Il sistema Della RSA Toscana Di fare un ragionamento Complessivo In commissione La risposta È stata no Se loro pensano Attraverso Una mozioncina Votata in aula Di aver già Assolto Al problema Di difendere Questo sistema Tutto nostro Tutto toscano Evidentemente Sbagliano Sbagliano E lo dimostra Il fatto appunto Che mentre loro Parlano di difendere Il sistema esistente Il governatore Va a dare il benvenuto Ai capitali stranieri Che arrivano Investono E costruiscono Maxi RSA Che vanno contro La legge regionale Perché noi abbiamo Una legge regionale Che stabilisce In 80 posti letto Il tetto massimo Per l'arreditazione Di un RSA E a Cecina Si realizza un complesso Da 1.500 posti letto Quindi Evidentemente C'è qualcosa Che cosa Campionati di cucina italiana Pegaso Ai cuochi In gara a Rimini Io oggi Ho voluto Ricevere Salutare Fare un grande In bocca al lupo I nostri cuochi Che sono certo Porteranno in alto Il nome della Toscana A Rimini Alla fine Del mese Un grande In bocca al lupo E ho voluto consegnargli Il nostro Pegaso A lato Il Pegaso a lato È il simbolo Di quello che è la Toscana Ben radicata nella storia Nei valori Nelle tradizioni Ma anche con la capacità Di innovare E guardare al futuro Esattamente come la loro cucina Che parte Dai prodotti tipici Del nostro territorio E tenta di rimetterli insieme Per consentire Di vivere A ciascuno di noi Esperienze Che ci toccano E che rendono più belle Anche le nostre giornate Io sono certo Che con i nostri prodotti Con la loro maestria Con la capacità Di saper toccare Il cuore Di chi Poi giudicherà Potranno tornare a casa Con risultati importanti Si aspetta grandi risultati Perché partono Da una grande storia Partono da grandi prodotti Che questa nostra terra Fortunatamente Gli fornisce C'è una grande tradizione In Toscana È stato fatto negli ultimi anni Un grandissimo lavoro Davvero Da parte di tutte le federazioni Sono cresciuti donne Uomini Che ci rendono orgogliosi Proprio dei prodotti Che noi dobbiamo continuare A mantenere In quella genuinità In quella bontà Che ci invidiano In tutto il giorno Loro saranno Saranno bravissimi E sicuramente Avranno la Toscana Nel cuore Da parte nostra Un grande in bocca al lupo E grazie comunque Per rappresentarci Allora Una competizione nazionale È basata su regolamenti Internazionali Quest'anno Per la prima volta E siamo molto contenti Perché sappiamo Di giocarcela Di giocarcela Proprio Con tutte le armi Che abbiamo Perché si Quest'anno Nei regolamenti Si parla soprattutto Di qualità dei prodotti E di bontà del piatto Si gioca molto su questo Mentre anni fa Si giocava anche molto Nella tecnica Nella presentazione Però sembravano Più opere d'arte E meno piatti Da mangiare tutti i giorni Quest'anno si gioca invece Più sulla bontà Quindi sappiamo Di giocarcela tutta Perché abbiamo Dei grandi prodotti Che esprimono la toscanità Esprimono il valore E l'esperienza Di questi cuochi Che sono anni Che lavorano E che quindi Possono raccontare Tanto attraverso il piatto Abbiamo Maiole di uniccinta sinese Le spolli certaldo Lo zafferano di San Gimignano E poi abbiamo Il gambero del d'argentario Gambero rosso E in circa Sono questi Gli ingredienti Tutto toscani Che formano i piatti Per quanto riguarda L'essere Abbiamo anche Il mare di spiaggia Del parco Regionale di San Rossore E pinoli Sempre di San Rossore Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti